Ciao a tutti di nuovo Allora, ecco a voi la recensione, come promesso, il CD di Believe Acoustic di Justin Bieber Allora, scusatemi, ho un mal di colla Allora, diciamo, prima ve lo faccio vedere Se sentire la canzone, l'altra volta, non ci fate che ci caso C'è il cd di violetta e se la sta a sentire Allora, qui c'è la foto Con, diciamo, quella scritta Believe Acoustic E Justin Bieber è una chitarra in mano E qui, diciamo, è lo sfondo che poi viene più dopo Cioè, è il mio foto E di qui c'è sempre la chitarra Qui Believe Acoustic Ci sono tutte le canzoni Sono veramente bellissime E ovvio, sono di Justin Bieber E poi Qui, vabbè C'è questa scritta Justin Bieber, Believe Acoustic E sempre la stessa di qui E adesso la Il cd è diverso dentro No, come questo qui Di Con la neve sopra Allora, qui c'è sempre scritto Justin Bieber Believe Acoustic Ho fatto tutto così Vedete, è molto simpatico, molto bello Infatti questo qui È il mio preferito Tra tutti i dischetti che ho Perché pure perché c'è un'altra sorpresina Che poi vi faccio vedere Che Vi dico soltanto un indizio È il libretto È la sorpresina Allora Il cd Già ve lo faccio vedere Ve lo faccio rivedere È così Ok Lo sfondo È così C'è la litarra E vabbè Diciamo lo sfondo è Come un posto di bianco No, come un posto di, vabbè, bianco Tutto così Dai Ok Adesso vi posso far vedere Il dischetto Non mi sto molto indietro Con la roba di Justin Bieber Perché Si sono fatte più tante La mia roba Diciamo E quindi Allora Se noi apriamo questo libretto Possiamo vedere Soltanto due pagine Però Si può aprire anche da sotto E poi si apre anche di così E quindi diventa Un posterino Molto bello E poi vabbè Qui sono Dicosì Tutte le canzoni Questo qui è Il lavandi E questo Qui il dietro De No il dietro Questo qui è il lavandi Del cd Questo è tutto Ok Quindi di che Questo qua comunque Già avevo detto È il mio preferito Pure per questo Ma soprattutto Anche per le canzoni Ok Comunque Se Visto che io Adesso Diciamo Non sto facendo più I I video Delle moste Rai Delle recensioni Forse Ma forse Ma forse Non so se lo farò veramente Farò gli episodi Delle moste Rai Vi dico forse Perché Non ho Nel camper Cioè Né una casetta Per farle Partecipare Come si dice Né poi Diciamo Gli effetti speciali Cioè Proprio Non ho Proprio niente A parte le Moste Rai Nemmeno tutte Poi alla fine E Perciò Forse Perché forse Non so se mi prestano La casetta La roba Vabbè Comunque Alla prossima video Vi farò vedere Ehm Il profumo Take A Nuovo di Justin Bieber E ci vediamo Nel prossimo video Sempre iscrivetevi Ciao